Inquinamento ambientale, illecita gestione degli impianti di depurazioni, arresti tra Catanzaro, Vibo e Cosenza, 21 indagati. Intimidazioni alla chiesa nel Vibonese fiaccolata con sindaci, associazioni e cittadini. A Vibo Valencia Maria Limardo rinuncia alla ricandidatura a sindaco. Scontri al derby tra Cosenza e Catanzaro, feriti 13 poliziotti. Ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. La DDA di Catanzaro con l'operazione Scirocco ha messo sotto la lente ben 34 impianti di depurazione, che servono 40 comuni ed ubicati nelle 5 province calabresi. Le accuse vanno a vario titolo, dall'associazione a delinquere all'inquinamento ambientale, dal traffico di rifiuti fino alla frode nelle pubbliche forniture. 21 indagati. L'esecuzione della misura cautelare di oggi ha riguardato una serie di reati di carattere ambientale, di inquinamento ambientale, di frode nelle pubbliche forniture e di attività organizzata per il trattamento illecito dei rifiuti. Tutto connesso al sistema della gestione degli impianti di depurazione che erano in capo ad un'unica società che si era giudicata agli appalti relativo alla gestione degli impianti di depurazione in numerosissimi comuni della Regione Calabria in tutte e cinque le province della Regione Calabria, con una gestione che era assolutamente deficitaria in frode ai contratti che erano stati stipulati, appunto, non adempiendo a tutte le prescrizioni, alle prescrizioni previste dai capitolati che accedevano a questi contratti e poi svolgendo un'attività di smaltimento dei rifiuti che derivavano dall'attività di depurazione, quindi i fanghi relativi al trattamento delle acque reflue, i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque di scarico, i fanghi delle fosse settiche, che appunto venivano smaltite illecitamente attraverso anche tutta una serie di attività di falsificazione dei formulari identificativi dei rifiuti. Quindi un'attività estremamente importante che è stato possibile svolgere grazie alle specifiche competenze tecniche di carattere investigativo dei comandi dei carabinieri tanto del nucleo di tutela ambientale quanto del comando forestale per il quale appunto attività per la quale ci vuole appunto una specifica competenza che riguarda la specifica materia relativa sia al trattamento delle acque sia allo smaltimento dei rifiuti. Allora per quanto riguarda questo impianto in particolare quello che avveniva è diciamo atteneva due aspetti, quelli erano gli aspetti per i quali questo impianto era autorizzato ad operare, il problema è relativo alla depurazione delle acque, quindi tutte le condotte che confluivano verso questo impianto per il quale appunto l'impianto fungeva dal depuratore, allo stesso tempo il problema, un problema fondamentale era quello relativo allo smaltimento dei fanghi che venivano condotti lì provenienti da altri depuratori. Questo impianto per intenderci riceveva i famosi botti di autospurgo che prelevavano i fanghi dagli altri depuratori, quindi parliamo dei famosi 34 depuratori disseminati per tutta la regione Calabria portava lì i fanghi, poi questi fanghi invece di essere trattati come dovuto venivano smaltiti lecitamente o in loco, quindi sversati sul terreno lì in loco, oppure avviati presso altri impianti dove abbiamo accertato la compilazione di formulari falsi e quindi senza che poi effettivamente ci fosse questo conferimento e questo smaltimento. In tanti si sono ritrovati accessaniti nel Vibonese per la fiaccolata silenziosa di solidarietà per le intimidazioni perpetrate nei confronti dei parroci del Vescovo, del Commissario Prefettizio e della Presidente di un'associazione molto attiva sul territorio. Le forze sane della società hanno chiamato a raccolta e accessaniti, molti hanno risposto dopo l'intimidazione a Don Felice Panamara, parroco di Pannaconi che ha subito addirittura un tentativo di avvelenamento, a Don Francesco Pontoriero, destinatario di esplicite minacce, al Vescovo della Diocese di Mileto Nicotere Tropea, Tilio Nostro, che ha trovato il bossolo di un proiettile nella cassetta della posta della Curia, al Commissario del Comune Sergio Raimondo e alla Presidente dell'Associazione Crisali di Romina Candela. Una marcia silenziosa che ha percorso le strade del piccolo centro del Vibonese che sta cercando di rialzarsi proprio grazie alla cultura, allo sport e al lavoro incessante che sta facendo anche la Chiesa. Una marcia silenziosa alla quale hanno partecipato in segno di solidarietà non solo i cittadini ma anche e soprattutto le istituzioni, con i sindaci con la fascia, il Presidente della Provincia, i consiglieri regionali Comito e Mammoliti, l'assessore regionale Varì, tante associazioni con in testa libera e soprattutto tanta gente, giunta da ogni luogo. Un corteo silenzioso e ordinato partito da Piazza Marconi e dal Sagrato della Chiesa di San Basilio per poi farvi ritorno per una preghiera comune. Cosa provate in questo momento? Abbiamo solo rabbia per le cose che stanno succedendo e vogliamo essere liberi. e per cui dobbiamo solo lottare pacificamente ma lotteremo. Tutta la comunità e tutta la provincia era qua presente con i sindaci, con le fasce? Ci fa piacere, ci fa piacere, ci fa piacere questo perché vuol dire che queste persone non sono sole perché hanno fatto una vigliaccata quindi che cosa dobbiamo dire? Siamo uniti per mostrare la nostra solidarietà nei confronti di queste persone che sono state colpite da questa situazione veramente strana. Questo. E' la stessissima cosa, siamo tutti uniti per questo evento successo qua, quindi siamo tutti uniti. E' una serata importante che sta a significare la totale fiducia verso le istituzioni dopo un attentato così vile da parte di vigliacchi che hanno tentato di minare quello che è lo spirito della società civile. E' tutto questo che è stato stasera è la dimostrazione che l'Andrangheta ha i minuti contati. Profanata la chiesa di Santa Maria di Nives a Bovalino Superiore. Sono state trafugate dal tabernacolo l'ostiamagna conservata nella teca, un medaglione reliquario della Madonna. E' stata profanata la chiesa matrice Santa Maria di Nives a Bovalino Superiore. Il gravissimo sacrilegio con la profanazione dell'Eucharistia è stato scoperto ieri pomeriggio quando il parrogo Don Rigoberth ha aperto la chiesa per la celebrazione della Via Crucis. Nonostante la possibilità di fare man bassa di alcuni oggetti di valore materiale, gli ignoti profanatori hanno trafugato soltanto l'ostiamagna conservata nel tabernacolo e poi un medaglione del reliquario della Madonna. Questa è la prima ricostruzione fatta dopo la scoperta da parte del parroco e dal vicario Foraneo e direttore dell'ufficio liturgico diocesano Don Nicola Commisso insieme al priore dell'arciconfraternita Maria Santissima Immacolata Pasquale Blefari. La chiesa si trova situata nel centro storico dell'abitato dove risiedono circa 100 abitanti. I malfattori si sono introdotti forzando una porta laterale dopo aver cercato e trovato la chiave del tabernacolo hanno preso le ostie consacrate e le hanno sparse sulla mensa dell'altare portandosi via l'ostiamagna che si trovava nella custodia eucaristica. Si pensa pure anche a tre ostie piccole consacrate. Poi successivamente, secondo la ricostruzione, hanno scassinato un armadio dove era custodito il medaglione del reliquario regalato al vescovo Raffaele Antonio Morisciano di Bovalino. Nel medaglione si vuole fosse conservato un capello della Madonna. Il fatto che non siano stati rubati altri oggetti di valore presenti in chiesa non lascia dubbi sul fatto della profanazione eucaristica. E qui il riferimento è chiaro a qualche messa nera o riti satanici. Queste potrebbero essere le ipotesi più plausibili. Il primo a fare una dichiarazione è stato lo stesso vescovo di Locri Gerage, Monsignor Francesco Oliva, esprimendo tutto il suo profondo sconcerto e dolore per un gesto, dice, che offende l'intera comunità cristiana di Bovalino e dell'intera diocesi. Profanare le ostie, dice il presule, e sottrarle dalla custodia eucaristica è uno dei peccati più grandi, una ferita nel cuore di tutta la Chiesa e dei suoi fedeli. Prego perché gli autori del gravissimo gesto si ravvedino ed avviano un percorso nuovo nella loro vita. Ora saranno gli investigatori delle forze dell'ordine a cercare di scoprire le ragioni e di capire anche il perché di un gesto del genere che, come sappiamo, anche dall'attualità nazionale, potrebbe benissimo riversarsi nel filone delle sette sataniche. Maria Limardo ha rinunciato ad essere la candidata del centrodestra alle prossime elezioni amministrative. Ad annunciarlo è stata la stessa con un comunicato ufficiale. Ad appena tre mesi dalla chiamata alle urne, quando i vibonesi saranno convocati per eleggere il nuovo sindaco, la situazione politica a Vibo Valencia è una bolla sospesa. Attivo appare il solo candidato del centro-sinistra Enzo Romeo, che è portatore del cosiddetto campo largo, avendo raggruppato intorno a sé non solo il PD, ma anche i 5 Stelle e le altre sigle di sinistra. L'ultimo fine settimana ha offerto il grande colpo di scena con l'improvvisa dichiarazione del sindaco uscente Maria Limardo che ha annunciato il suo ritiro dalla competizione elettorale dopo che gli esponenti del suo partito, Forza Italia, avevano annunciato che il candidato del centrodestra non poteva essere altri che lei. La decisione, improvvisa e imprevista, provoca un inevitabile sconquasso nella coalizione che da oltre 15 anni governa ininterrottamente la città, seppure sempre con sindaci diversi, Nicola D'Agostino, Elio Costa, Maria Limardo appunto. Mentre il tempo scorre e i giorni che mancano all'appuntamento elettorale sono sempre meno, il quadro politico è un rebus insoluto, con l'altra parte politica, quella del cosiddetto centro moderato, che rimane in stand-by proprio in attesa di capire quali mosse, soprattutto quelle personaggio auspicabilmente aggregante, sceglierà il centrodestra. Certo, la sorpresa in città è forte. Ogni azione portata avanti da Maria Limardo era da tutti considerata quella di un sindaco già in campagna elettorale ed invece l'inattesa svolta, apparentemente non prevista. E rimane da capire cosa è realmente successo, perché questo improvviso dietrofonte del sindaco? Chi o cosa l'ha convinta a rinunciare quando tutti ormai si erano dichiarati sulla giustezza della sua ricandidatura? Cosa le ha fatto cambiare idea così improvvisamente? E di conseguenza, come reagiranno i partiti del centrodestra? Quali nuove alleanze potranno costituirsi dinanzi ai nuovi scenari che si aprono? E soprattutto, intorno a quale nome, che sia opportunamente aggregante, si comporrà la nuova coalizione? Intanto, onore al merito ad una donna, Maria Limardo, dal carattere forte e deciso, forte e decisa, fino all'ultima mossa. Il leader della CGL, Maurizio Landini, alla Mezzia Terme, per partecipare ad un confronto con rappresentanti istituzionali e rappresentanti delle forze economiche e sociali della Calabria. Per questa terra sono necessari investimenti in infrastrutture come strade, ferrovia ed ospedali, no all'autonomia differenziata. Venerdì ci sarà uno sciopero nazionale dei lavoratori dell'Ene, proprio perché si chiede di confermare a quel gruppo gli investimenti, di non delocalizzare produzioni. Qui, ad esempio, su Rossano c'era un impegno molto preciso che oggi non viene rispettato. E parlare di sviluppo vuol dire parlare di investimenti, vuol dire parlare di politiche industriali e parlare di investimenti in Calabria vuol dire parlare di investimenti in infrastrutture, sia materiali, strade, ferrovie, sia sociali, asili, scuole, ospedali, perché questo è quello che si sta pagando. Questo arretramento delle infrastrutture è quello che impedisce una crescita e la Calabria, come altre parti del nostro paese, in particolare il Mezzogiorno, stanno vivendo anche uno spopolamento nel senso che i giovani se ne vanno e credo che questo sia un altro tema centrale ad avere attenzione. Io credo che noi dobbiamo narrare il punto di vista di chi per vivere ha bisogno di lavorare e da questo punto di vista qui le condizioni sono peggiorate perché si è poveri lavorando, si continua a morire sul lavoro, perché ci sono livelli di precarietà inaccettabili, perché è aumentata la malavita organizzata che controlla pezzi interi dell'economia reale e quindi credo che narrare una realtà diversa significa battersi affinché il lavoro torni ad essere un diritto vero e affinché i diritti fondamentali, il diritto alla cura, il diritto all'istruzione, cioè a essere persone libere perché hai un lavoro dignitoso e perché puoi partecipare alla vita sociale e politica, credo che sia il tema di fondo. Queste condizioni oggi non ci sono e la CGL qui in Calabria e come in Italia per chiedere alle persone di battersi per cambiare queste condizioni e per affermare una politica economica e sociale diversa in cui la libertà delle persone passa attraverso il diritto al lavoro, il diritto alla cura, il diritto all'istruzione, a una giustizia sociale che oggi non c'è a partire da una vera lotta all'evasione fiscale e alla necessità di investimenti seri per creare lavoro e dare un futuro al paese. Dopo otto lunghi anni finalmente è stato riconosciuto l'indennizzo da parte dell'INAIL ad un operaio portuale di Gioia Tauro, vittima di un incidente stradale avvenuto dopo il turno di lavoro. Avvocato, oggi possiamo dire che abbiamo vinto una battaglia di un lavoratore che ha un incidente che non viene riconosciuto il suo diritto all'indennizzo. Grazie a lei, oggi la moglie insieme al marito perché ancora lui è un figlio. Certamente, e al figlio. E al figlio, e perciò rispettamente. Esattamente, esattamente. E vogliamo raccontare questa storia? Sì, si tratta di un lavoratore di Gioia Tauro che aveva appena smontato dal proprio turno di lavoro al porto e stava rientrando presso la propria abitazione. Si mette alla guida del suo scooter e purtroppo ha un incidente va a sbattere contro un palo dell'illuminazione. Va in coma e addirittura lotta fra la vita e la morte per diversi giorni. Viene avviata dalla moglie la pratica INAIL perché questo ente riconosce il diritto dell'infortunato ad essere risarcito anche durante il tragitto se non che l'INAIL nega il diritto all'esercizio del danno sul presupposto dell'uso di sostanze stupefacenti alla guida. Effettivamente era venuto fuori dalle cartelle cliniche e la positività a delle sostanze oppiacei. La moglie è venuta da sottoscritto ovviamente giurandomi che il marito non aveva mai fatto uso di sostanze in vita sua e a quel punto abbiamo cominciato ad indagare fino a scoprire che fra i farmaci che erano stati praticati in ospedale vieno delle sostanze degli antidolorifici particolarmente potenti che contengono proprio la molecola degli oppiacei. Per cui la positività che effettivamente corrispondeva al dato reale non era dovuta all'uso delle sostanze ma all'infusione di questi farmaci. Abbiamo quindi promosso un giudizio di fronte al Tribunale di Palmi e dopo sette anni il Tribunale dopo aver disposto una consulenza ed aver accertato la corrispondenza al vero diciamo della nostra intuizione ha effettivamente confermato il diritto del lavoratore ad ottenere la giusta rendita e sicché la famiglia oggi quantomeno nella disgrazia può godere di una risorsa economica sufficiente per poter andare avanti. Signora, il signor Ventral, cosa è successo? Otto anni fa, giusto? Sì, otto anni fa ha avuto un incidente e purtroppo il 5 giugno del 2017 alle 6.05 di sera diciamo ci è cambiata tutta la vita. Una sanità che ha funzionato? Eh diciamo, forse in quel momento però è andato bene. Ha tutta la medicina? Fuori è normale che negli ospedali sono molto più attrezzati e quindi diciamo hanno portato il mio marito a questo livello grazie pure alla terapia grazie alla mia famiglia innanzitutto che mi sono state vicine e il mio grande avvocato che ci è stato vicino sia moralmente sia in tutto e per tutto. L'avvocato perché? L'avvocato perché subito quella sera quando ho avuto l'incidente io volevo pure capire perché mi hanno detto che mio marito ha avuto l'incidente da solo c'è stato un testimone Un sinistro da solo, giusto? Sì Autonomo Autonomo, sì quest'incidente ha avuto autonomo e quindi però diciamo adesso siamo qua sono sette anni è vivo, è qua con noi Quindi dopo otto anni si vince una battaglia se possiamo dire la battaglia Sì grazie al nostro avvocato che abbiamo vinto finalmente la causa che dopo sette anni diciamo di dolore di disperazione oltre alla situazione di mio marito c'è stata pure questa situazione a livello pure burocratico Perché poi lui non è un ex impiegato del portuale Sì, nel porto di Gioia Tauro A quel minuto lo stipendio non arriva più a casa Niente si distrugge tutto Perché lui ha avuto un incidente autonomo mentre lui tornava a casa Sì, sì, sì tornava dal lavoro E quindi non era riconosciuto? No, niente purtroppo no è andata così purtroppo però adesso diciamo dopo tanti sacrifici tante lotte abbiamo vinto finalmente la causa dopo sette anni contro l'INAIL ringraziando a Dio adesso abbiamo finalmente risolto diciamo in parte il problema adesso c'è la disabilità di mio marito però cerchiamo di andare avanti in qualche modo È stato pesante il bilancio dei tafferugli post partita tra tifoserie del Cosenza e del Catanzaro e forse dell'ordine almeno 13 gli agenti e un ragazzo hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari Sarebbe di 13 poliziotti contusi il bilancio degli incidenti verificatisi al termine del derby di Serie B tra Cosenza e Catanzaro alcuni tifosi del Catanzaro sono stati identificati dalle forze dell'ordine secondo la ricostruzione fatta dalla Questura dopo alcuni leggeri tafferugli senza conseguenze che si sono verificati nelle vicinanze dello stadio Marulla i pullman dei tifosi giallorossi sono stati instradati verso lo svincolo autostradale di Cosenza Nord e gli incidenti si sono verificati nei pressi del centro commerciale di Rende quindi proprio a poca distanza dallo svincolo sempre secondo la ricostruzione fornita dalla Questura di Cosenza lungo la strada un gruppo di supporter catanzaresi da due pulmini hanno lanciato sassi contro le auto della polizia quindi si sono fermati nel parcheggio del McDonald lanciando fumogeni verso la struttura e cercando di entrare ed è qui che sono iniziati gli scontri con la polizia diversa la versione fornita dai tifosi catanzaresi che parlano di un agguato dei tifosi avversari e sostengono che i pulmini si sono fermati dopo che un gruppo di tifosi del Cosenza li aveva colpiti con sassi e bastoni versione che al momento non viene confermata dalla Questura secondo il racconto di alcuni testimoni attimi di panico per i clienti e il personale del McDonald che hanno dovuto fronteggiare la furia degli Ultras il locale sarebbe stato oggetto di un fitto lancio di bottiglie di vetro e di pietre secondo alcune testimonianze sarebbe esplosa anche una bomba carta proprio davanti all'ingresso del fast food alcuni tifosi hanno fatto irruzione nel locale aggredendo gli avventori solo il pronto intervento degli inservienti ha evitato il peggio i clienti tra di loro c'erano anche dei bambini letteralmente terrorizzati dalle brutte scene vissute hanno trovato riparo nei bagni e nelle cucine un ragazzo è stato colpito la testa con un bastone e ha dovuto ricorrere le cure mediche a causa di un profondo taglio fino a tarda serata il traffico sulla strada statale 107 è rimasto totalmente paralizzato causando gravi disagi alla circolazione dei mezzi in queste ore comunque gli investigatori stanno visionando i video della sistema di sorveglianza della McDonald's di Rende ed altri girati da privati cittadini che circolano sui social da questi video si potrebbe arrivare ad una ricostruzione definitiva della vicenda sconfitta per la pallavolo crotone contro la Castellana Grotte la spuntata alla fine il Castellana Grotte squadra che superava le sirene della pallavolo crotone con 4 punti ed oggi dopo questa vittoria la squadra pugliese virtualmente salva ma le crotonesi di mister Pietro Sterite salve non sono e avranno adesso due settimane per ricaricare le batterie studiare gli errori prendere di quanto buono è stato fatto e sperare in questa salvezza tanto voluta per la cronaca la Castellana Grotte a Crotone ha vinto tutti i tre set per le crotonesi e la tredicesima giornata di sede B1 2023-2024 questo è stato il primo sconso salvezze per noi purtroppo è andata male facciamo i complimenti al Castellana perché penso che dopo questa vittoria il suo campionato può considerarsi quasi chiuso a meno che non ci siano delle grosse sorprese quindi ora ci passano sette punti sono io dico matematicamente salvi quindi virtualmente salvi forse è meglio così per noi invece resta la mano in bocca per non aver giocato una partita molto gagliarda ma dal punto di vista tecnico ci hanno sovrastato quindi attacca e muro di un altro livello non per il nostro livello non abbiamo spesso la migliore pallavolo pazienza forse lo stress di dover portare a casa qualche punto ora abbiamo una settimana di pausa poi pensiamo al prossimo scontro diretto col Terrasini che è la squadra che in questo momento ci sta sotto di un punto che dobbiamo mantenere sotto se vogliamo raggiungere la salvezza che per noi comunque resta un miracolo tecnico e a tal proposito come si costruisce la salvezza guarda ora abbiamo questi due giorni da leccarci le ferite per questa partita perché questo era un primo matchball per noi perché allungare più 4 sul Terrasini che è la squadra che ci sta sotto sarebbe stato un bel vantaggio per noi invece continuiamo a stare a più 1 quindi quando verranno qui tra 15 giorni per noi è una finale di Champions League cosa che dico alla squadra da un po' di tempo le altre partite che seguiranno non sono alla nostra portata così come non lo sono alla portata né del Castellana né del Terrasini ma in questo momento io guardo in casa mia e dobbiamo fare punti tra 15 giorni col Terrasini e poi l'ultima giornata col Benevento col fanalino di coda io comincerei così qual è l'analisi di questo match? purtroppo non siamo riusciti a dare il meglio di noi stessi non abbiamo affrontato la partita con la giusta cattiveria e invece era successo così contro la prima in classifica ma purtroppo in questa partita non siamo riusciti a dare altrettanto è tutto per questa edizione grazie per aver seguito il nostro TG grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti